Amici del Bar del Baseball, buon pomeriggio, ci troviamo qui in compagnia di Francesco Ciao Francesco, il papà di una nostra grande tifosa Francesco, allora stasera come la vedi? Stasera io almeno la prima la voglio vincere Già siamo 2 a 0 Proprio per questo, già siamo 2 a 0, almeno la prima la dobbiamo vincere Poi, certo, già col tifo che ci avevamo a casa, almeno la prima Si prevede quasi il tutto esaurito, i biglietti sono andati all'edicola alla grande Spero che almeno la prima, vincendo la prima, poi speriamo all'altro L'importante è riportare la serie a Bologna e sabato trasferirci a Bologna Ma comunque, qui sentite i rumori di foglie e quant'altro Ci troviamo in compagnia di lui, il mago del pronossico Anche perché è scappato No, quando era? Mercoledì sera? Io sono andato al campo, ma lui mi ha driblato con Con una serpentina degna dal miglior furetto Si, 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 e niente, se abbiamo perso le due partite è colpa sua Perché io gli ho detto, guarda, tu devi lasciare il pronostico Perché quando l'hai fatto te, comunque ci ha portato delle tre vittorie con il Parma Poi il passaggio ai playoff, la vittoria con Torrimini E lui con il Bologna si è defilato E lui con il Bologna si è defilato Sennò non si vede bene, Luciano Facciamo i spunti, facciamo i spunti No, 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 anzi, leva il monitor qui Quello sponzoraccio che c'ha No, niente, niente, non si fa pubblicità sul Bar del Beso Tutti chi fa pubblicità viene bannato Assolutamente Allora, parliamo di cose sei Eh sì, innanzitutto mi scuso per non aver fatto il pronostico E poi adesso Allora, ormai è andata la serie 2 a 0 Siamo a Nettuno, stasera alle ore 21 Diamo appuntamento ai nostri tifosi Però noi siamo qui peraltro, Luciano Per il pronostico Certo, certo, dicci qualcosa Io mi preoccupo perché noi sono molto fortunati, capito? Sono molto fortunati Te che sei stato anche a Bologna Sono sempre tutti disponibili Poi, che ne so Cioè, fanno sempre battute fortunose Eh, dobbiamo sperare che questa fortuna la abbandoni Anche perché in finale si sa che perderanno con i Rimini, no? Quindi ci mandassero a noi, insomma, no? Ah, perché dici, anche perché Bologna quando fa nella sedia A Bologna si mette paura Certo, certo Ci mandassero a noi Eh, anche così Bologna ce l'abbiamo vinta con i Rimini Certo, anche perché dobbiamo far Ricrescere la passione Lo sponsoraccio che c'hanno poi Eh, mamma mia, Luciano È tremendo C'è mi sconti Mi lasciavo perdere Comunque, Luciano Parliamo di cose serie Te che l'altra sera Giovedì sera Ci hai dato una grossa mano Anche, anzi Tutti gli amici del Bar del Baseball Ti ringraziano Per il supporto che ci hai dato Con le foto e i video All'istante Che ci mandavi da Bologna Ascolta, ma ci informavi che sugli infortuni Sì Stasera cosa prendi? Non si fa mai male Zilischi stasera la guazza Stai in salute pure lui Stai in salute Lo danno informazioni partente Si è ripreso quindi Gira un sacco la diarrea Ancora la diarrea Anche perché Stavattina c'è l'umidità Stavattina c'è molta umidità C'è molta umidità Nettuno Magari, sa, un colpo Un caldo La sudatina Una sudatina Una sudatina Una sudatina Che si riprendano per la Coppa Italia Niente di che Per la Coppa Italia Scusi, il 30% Niente Va bene amici del Bar del Best Votiamo appuntamento Innanzitutto venite tutti allo stadio Sostenere la nostra squadra Speriamo che non abbiano fortuna Come diciamo sempre in Bologna Niente È una squadrita Niente, certo Tre battitori che battono Tutti i trecci Ma non sta male Lì, vuole tornare a Mettuno Un'Alessandro Andrea Andrea Lasciate i perdi Lasciate qua Con il soraccio Il guaio Che guaio questo Comunque Allora Hai girato attorno Ma il pronostico Diciamo noi Andiamo noi A difendere loro In finale Contro i Rimini E gli facciamo vedere Quindi Hai aperta la serie Luciano ha appena dichiarato Che sabato sera Ritorneremo al Gianni Falchi Assolutamente sì Mi piacciono le piadine Lì Buono Sì Anche perché Hai fatto il test driver All'Audi A4 Ho visto lì Sì Le foto Che hai fatto Il test di carico Sì sì Ecco però La macchina è stata Al meccanico Ma per il vetro Ha rotto il vetro Fatti perdonare Peppe stasera Mi raccomando Ha rotto il vetro Da 600 De Luana Ah è vero L'altra volta Sì 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 Va bene amici Noi vi aspettiamo Alle ore 20 e 30 Anche qui lo aspettiamo Ancora E niente E niente È strependo questo Ricordiamo che Luciano C'ha un'impresa di pulizia A vice Arrivederci Ciao ciao